Ciao a tutti sono Chiara e da qualche tempo lavoro nell'ufficio acquisti operativi. Tra tutti i valori condivisi in stucchi quello per me è predominante perché influisce attivamente sul mio lavoro quotidiano è sicuramente l'imparzialità. Imparzialità che fa sinonimo con equità e che va a braccetto con molti altri valori condivisi in stucchi appunto quali trasparenza, onestà e responsabilità individuale. Ahimè non si nasce imparziali, comprendere e apprendere pienamente il concetto di imparzialità richiede un grande cammino sia professionale che umano ed è sul campo in azienda che ho potuto imparare che sono il tesoro degli insegnamenti delle persone che hanno lavorato e che lavorano con me che l'imparzialità non esclude l'unità e l'umanità ed anzi sono in essa inglobate. Vediamo che guardare il progetto dalla stessa oggettiva prospettiva ti ha beneficio a qualsiasi tipo di rapporto professionale e fortunatamente ritrovo questo principio anche nelle aziende che collaborano con noi. È onestamente motivante sapere come stucchi sia storicamente riconosciuta come un'azienda attenta alle persone che vi collaborano, che siano messe esterne o interne e d'attronde con queste solide basi che è potuta diventare l'azienda che è oggi ed è appagante farne parte. Grazie a tutti.